Buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz e ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica caffè e mercati oggi come ogni venerdì andiamo a fare il recap delle nostre posizioni in portafoglio ma andiamo a vedere anche quali sono le nuove posizioni che abbiamo messo proprio nella giornata di ieri e allora andiamo subito sul sito prima di passare i grafici eccoci qui su investire.biz vi ricordo che le iscrizioni per il webinar del lunedì delle ore 18 sono già aperte e potete iscrivervi come sempre dalla sezione appuntamenti qui sotto andiamo subito ora sulla piattaforma del broker Kimura eccoci qui iniziamo dal nasdaq nasdaq che ha testato la linea chieson dell'indicatore cimaco ieri abbiamo fatto una bella analisi anche insieme a luciano ed eccoci qui che i prezzi hanno testato molto bene questa zona resistenziale e oggi abbiamo la conferma con questi ribassi importanti sarà molto importante capire quale sarà la chiusura giornaliera scusate la chiusura settimanale anche perché qui notiamo che i prezzi per la seconda settimana di seguito sono andati a testare questa linea chieson sul weekly molto molto importante questa zona siamo all'interno di questo trading range che va da 12.300 a 13.000 quindi teniamolo sotto osservazione siamo entrati per ora al ribasso con uno stop al di sopra di questa zona di massimi continuiamo andiamo a vedere il bitcoin una delle domande che mi avete fatto ecco qua andiamo ad analizzare un attimo il grafico c'è stato come detto anche ieri un massimo un doppio massimo da cui i prezzi stanno un po facendo fatica a stanno un po facendo fatica insomma a segnare nuovi massimi storici però a mio avviso è una cosa che che accadrà magari anche nel weekend non vado a posizionarmi al rialzo assolutamente in quanto questo bel rialzo c'è già stato dopo l'ultimo dopo l'ultimo storno però cosa abbiamo fatto all'interno del gruppo traders club abbiamo comprato un'altra cripto valuta andiamo a vederla litecoin siamo entrati al rialzo su litecoin attenzione queste sono posizioni prettamente speculative siamo entrati long da 197 45 intorno alla zona dei 200 sta salendo bene nella giornata di oggi molto interessante la rottura rialzo di questa zona resistenziale che nella giornata di ieri ha funzionato dal supporto e oggi c'è una bella spinta stiamo assistente a una bella spinta attenzione quindi al primo obiettivo che sono i massimi precedenti però più in alto abbiamo nel medio termine la zona dei 280 dollari quindi molto bene qui su litecoin lasciamo correre nelle posizioni proseguiamo però perché dobbiamo andare a vedere euro dollaro euro dollaro che ha testato quindi il livello chiave in area 1.1950 1.1975 da qui i prezzi stanno scendendo con forza quindi resistenza la resistenza ha tenuto bene non siamo entrati perché ieri la candela ha chiuso praticamente sui massimi un segnale di forza però teniamo sotto osservazione questa resistenza andiamo anche sui time frame inferiori per cercare di andare a individuare il momento giusto per entrare secondo me possiamo rimanere sul time frame h4 e al primo rimbalzo nuovamente in area 1.1970 entriamo al ribasso poi chiaramente scusate verrete aggiornate all'interno del gruppo traders club però insomma rimane la mia view ribassista andiamo a vedere il gold anche il gold sta scendendo la candela di ieri ha dato un segnale ha dato un segnale short senza ombra di dubbio dopo il test di che cosa dopo il test di questo livello del livello di 1740 che corrisponde anche al massimo di questa candela importante al candela importante al rialzo è plausibile che i prezzi raggiungano i minimi precedenti in area 1.680 dollari per onza manteniamo le nostre posizioni rialziste in area 1.700 ne abbiamo una più in basso in area 1.675 ma riguardano il medio lungo termine nel breve termine invece rimaniamo anche qui ribassisti esattamente come su euro dollare concludiamo tutto con che cosa con il petrolio molte richieste sul petrolio come possiamo notare il trend rimane ampiamente rialzista vediamo quali sono i primi supporti utili a mio avviso per poi valutare una nuova entrata long il primo in area 64 63 50 questa zona che evidenziato e poi più in basso in area 62 una rottura invece solamente una rottura del livello di 59 50 allora porterebbe e potrebbe far cambiare il trend da rialzista a ribassista comunque ci sono diversi aggiornamenti che vi darò all'interno del gruppo traders club occhio litecoin perché è la criptovaluta che sta salendo di più mentre le altre sono anche abbastanza ferme nella giornata di oggi chiaramente quindi seguiamola con particolare attenzione nonostante sia una criptovaluta penso che la manterrò app la posizione la manterrò aperta anche nel weekend perché secondo me può andare sopra i massimi precedenti bene io con questo concluso auguro una buona giornata un buon trading a tutti ma soprattutto un buon weekend a tutti a tutti Grazie a tutti.